Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, cominciamo da qui facendovi vedere un'auto finalmente elettrica, sì, è una Bev, è l'omoda 5. Buongiorno a tutti cari amici elettronauti, cominciamo da qui facendovi vedere un'auto. Vi dico subito un dato interessante, ha una batteria da 61 kWh, BYD Blade Battery, sì esatto, monta le batterie di BYD ed è una cosa veramente molto interessante perché comunque sapete che litio ferro fosfato non contengono metalli rari, sono batterie veramente che hanno una qualità superiore e quest'auto avrà anche un prezzo diciamo a livello di mercato molto interessante. Quindi con questa diciamo future in più è tanta roba. Partiamo però come sempre dalle dimensioni, qui abbiamo 4 metri e 42, poco più lunga rispetto alla versione a benzina, l'altezza è rimasta la stessa, è sempre di 1,58 e 1,83 invece di larghezza. Per quanto riguarda invece il passo siamo sempre sui 2,63 metri, quindi sì non è un'auto piccolina ma però non è neanche troppo grande. Come avete visto esteticamente è molto simile alla diciamo versione a benzina però quello che cambia ovviamente è il frontale perché? Perché i ragazzi di Omoda hanno inserito la presa di ricarica proprio qui e si apre attraverso la chiave ma anche attraverso un pulsante all'interno del veicolo. La scelta di avere la porta qui davanti è una scelta per me infelice anche perché al 90% gli incidenti sono proprio dovuti a dei tamponamenti. Quindi o si viene tamponati o si tampona e avere la porta di ricarica proprio qui davanti vorrebbe dire dover immediatamente far sistemare il veicolo anche perché c'è veramente il rischio che si vada a danneggiare anche solo magari questo meccanismo qui. Però vabbè direi che comunque esteticamente è davvero molto bella. Una cosa interessante che ho notato immediatamente è che qua sotto c'è il cavettino di sicurezza in metallo che serve per andare a rimuovere il blocco per il cavo. Sapete che qui all'interno c'è un perno che va a bloccare il cavo di ricarica. In caso di anomalia con la colonnina ad esempio sarà possibile andare a sbloccare il cavo in maniera molto molto semplice. Adesso chiudiamo e continuiamo l'ispezione del frontale frontale che devo dire a me piace veramente tanto soprattutto questa linea nera che va da una parte all'altra è unita con il logo il lettering centrale di Omoda ma soprattutto quello che mi piace è il faro a luce diurna che si sviluppa orizzontalmente e prende anche una certa parte di parafango. Poi vabbè abbiamo un'altra parte invece di faro che si sviluppa in verticale qui abbiamo un faro led a matrice attiva non male. Oltretutto di interessante possiamo vedere che si le diciamo air curtains sono vere quindi le prese d'aria visto che non vi piacciono gli inglesismi le prese d'aria sono vere. Quindi da qui passa l'aria e serve principalmente per andare a migliorare le turbulenze laterali. Turbulenze laterali che sono anche migliorate grazie ai cerchi perché i cerchi infatti sono aero con queste appendici che troviamo qui in plastica che possono anche volendo essere rimosse. Molto bello secondo me questo cerchio qua è gommata Kumo ma in realtà non si sa se poi arriverà ovviamente sul mercato italiano con questa gomma. E oltretutto raccontano anche che il cerchio non sarà precisamente questo che vediamo ora però io volevo farvelo vedere comunque perché è abbastanza bello diamantato in una misura standard sui 18 pollici. Curiosa poi questa parte qui sotto aperta con un bel radiatore in vista. E sì se ve lo state chiedendo adesso controlliamo se ha un franc. Abbiamo anche l'aiutante oggi. Ciao Marta. Ciao. Che anche lei tra l'altro sta facendo un video su elettronauti. Una cosa importante da notare è immediatamente che si si apre e rimane aperto grazie ai braccetti. Non è ovviamente elettroattuato. Qui sopra abbiamo una buona parte di non mi viene la parola in italiano in realtà mi viene quella in inglese insulation. Ossia isolamento acustico. Molto brava Marta grazie per il suggerimento. Sì una parte di isolamento acustico perché praticamente essendo questo frontale decisamente importante imponente e chiaramente qui potrebbero arrivare da qui un po' di diciamo a parte di fruscii ma anche rumori del motore ad esempio perché sì la trazione è anteriore ed è qui sotto. La cosa bella che ho potuto notare è a parte che non ha un franc e diciamo che a livello di posizionamento dei componenti avrebbero potuto fare sicuramente meglio notare che c'è veramente tanto spazio. Però un'altra cosa importante da notare è che il motore anteriore a magneti permanenti è disposto proprio sull'asse quindi sull'asse anteriore diciamo ad altezza ruota il che vuol dire che comunque dovrebbe avere una efficienza superiore. Concludiamo la questione motore dicendovi ragazzi che siamo sui 150 kilowatt di potenza 340 newton metro di coppia quindi dovrebbe spingere abbastanza e chiediamo ancora aiuto alla valletta per andare alla sua chiusura. Grazie vediamo se brava che l'hai chiuso in un colpo solo perché sì effettivamente ha due agganci e quindi bisogna chiuderlo con una mano qui centrale sul logo Omoda lettering molto bello che vi ho già raccontato prima. Volevo però farvi notare questa particolarità ci sono alcune parti plastiche molto carine che vanno a ricordare un po' il carbonio ma non credo che sia carbonio poi dovrò chiedere eventualmente l'UMI. Qui sotto abbiamo ancora una minigonna con un inserto in carbonio devo dire abbastanza bella ma il problema principale è che si riga molto facilmente. La parte però che mi ha stupito sicuramente di più è la cura che hanno voluto tenere al posteriore perché il design ricorda veramente tanto le auto tedesche e comunque di fattura europea. Abbiamo questo faro che parte comunque dalla fiancata spezzato dal baule che va da parte a parte ancora il lettering Omoda centrale. Molto bello devo dire oltretutto dispone di due alettoni uno spezzato in stile MG4 Luxury e uno invece qui che si nota poco ma c'è. Oltre poi alla telecamera posteriore ovviamente dotata di telecamera a 360 gradi abbiamo un pulsantino per l'apertura del baule qui nascosta proprio sotto il logo. Baule che però non è elettroattuato almeno in questa versione di una dimensione buona 300 litri circa, 340 se non mi sbaglio con anche la possibilità di avere un sottofondo quindi un doppio fondo scusate dove però ci sta praticamente solo un singolo cavo di ricarica abbiamo l'autoletta 12 volte e i sedili sono abbattibili 60-40 la nostra Marta ci aiuta ancora una volta e farvela vedere però poi ora un pochino all'interno perché probabilmente è proprio lì che mi ha stupito ancora una volta quando io ho analizzato il modello a benzina non ero rimasto così colpito dalla qualità degli interni qui devo dire che qualcosina è veramente cambiato in positivo prima di tutto troviamo questa portiera con materiali non plastici assolutamente troviamo una parte qui in alto molto comoda bella con la cucitura a contrasto in pelle parte in pelle poi anche qui sul poggiabraccio ancora cucitura a contrasto e poi vabbè si parte croccante qui sotto però vabbè ok non floccata va bene ma tanto spazio qui davanti per l'impianto Hi-Fi impianto Hi-Fi firmato Sony quindi ci aspettiamo che vada anche molto bene ci sono veramente alcuni dettagli molto carini veramente molto carini che fanno sembrare quest'auto decisamente un'auto premium lo schermo lo schermo qui abbiamo uno schermo curvo che va da parte a parte diviso in due parti 21 pollici 21 pollici 16 noni il form factor abbiamo poi una serie di pulsanti touch qui in stile porsche molto carino abbiamo poi chiaramente ancora le bocchette di areazione mi sembra tutto ben realizzato ora mi siedo per accendere il quadro premo il pedale del freno e il pulsante on che sta qui in centro ed eccoci che il quadro strumenti si accende immediatamente come possiamo osservare il quadro strumenti è decisamente intuitivo poche informazioni ma buone vediamo sulla destra le informazioni della radio quanti chilometri sono stati percorsi sulla sinistra invece troviamo quanti chilometri potremmo andare a percorrere come vedete quest'auto ha percorso 10 chilometri chiaramente non è un'auto fatta per marciare infatti oggi non faremo un test drive purtroppo ma è solo diciamo un primo contatto con un'auto statica e devo dire che comunque colpisce ragazzi qua abbiamo ad esempio un bello e piccolo come piace a me volante multimediale con diciamo tre razze razza sinistra dedicata al controllo degli ADAS razza destra invece dedicata al controllo dell'infotainment non possiamo smanettare troppo perché comunque ha su un sistema operativo non ancora che ci dà la possibilità di esplorarlo ma in ogni caso da quello che sembra di aver toccacciato si muove abbastanza bene al momento la navigazione è demandata a Turbo Dog 9 che è un'applicazione diciamo tipicamente asiatica non so poi effettivamente quando arriverà qui nel nostro paese se saranno riviste tutte queste cose devo dire però comunque ribadisco che il sistema operativo si muove bene ed ha una grafica veramente attuale non solo due schermi ma dovremmo averne un altro qui centrale che al momento però ancora non trovo acceso credo che questa non sia proprio la versione top di gamma infatti anche i sedili pur essendo belli in tessuto e similpelle non hanno la regolazione elettrica e quindi immagino non sia proprio il modello top di gamma una cosa però top che mi ha colpito è sicuramente questo questo è un caricabatterie wireless per lo smartphone che è ventilato non so se avete notato ma ha proprio una piccola ventolina qui sotto dalla quale esce aria e quindi il nostro telefono riuscirà a ricaricarsi in maniera diciamo abbastanza semplice non vi prende fuoco il telefono come mi ha suggerito Marta in effetti tipo con la mia Tesla quando io vado a ricaricare il telefono non è che vada benissimo per niente anzi dopo circa mezz'ora che è in carica mi avverte il telefono e dice ah ricarica wireless è sospesa grazie quindi qui sì abbiamo una ricarica che è decisamente migliore una cosa che avevo notato molto interessante della Omoda 5 non elettrica è che qui aveva una porta USB questa porta USB serve per andare ad inserire una chiavetta diciamo tra virgolette sulla quale potranno essere salvate le varie dashcam perché quest'auto dispone anche di una dashcam molto interessante perché quali altre auto arrivano con la dashcam integrata forse BMW e Tesla altra cosa interessante è sicuramente la parte di climatizzazione che è demandata anche qui dietro è possibile avere un climatizzatore trizona e abbiamo anche il riscaldamento dei sedili tanta tanta roba e poi ovviamente abbiamo anche l'Isofix qui sui due sedili posteriori e viene mantenuta poi anche la qualità qui nel posteriore ma sappiamo che le cinesi sono famose per appunto mantenere la qualità anche nel posteriore perché il posteriore è fondamentale per i cinesi anche per me in realtà il posteriore è fondamentale dici che l'han capita la battuta Marta e una cosa che avevo già notato con il modello a benzina è che qui dietro non c'è tantissima visibilità soprattutto se i poggi a testa sono un pochino rialzati ma come dicevo nessun problema la telecamera posteriore ha un buon feed quindi diciamo che è abbastanza rapida da andare a trovare nel display e ha anche una buona risoluzione e poi vabbè c'è la telecamera a 360 gradi quindi non male molto bella poi la console centrale rivista leggermente qui abbiamo uno spazio per tutto quello che ci serve lì sotto abbiamo il selettore per andare a disabilitare l'airbag del passeggero un outlet a 12 volt ma non solo dall'altro lato abbiamo anche due porte USB una USB A e una USB C lo spazio comunque a bordo è veramente tanto e a confronto di altri cinesi qui abbiamo anche comunque il cassettino portaoggetti tanta roba sì tanta roba perché noi siamo abituati ad avercelo ma ci sono auto che non ce l'hanno quindi vabbè in ultima analisi in questi pochi minuti nei quali sono rimasto seduto sull'auto mi è sembrato che i sedili siano veramente confortevoli e poi lo spazio a bordo mi pare pure molto molto buono qui sotto non abbiamo trasmissione e quindi la piattaforma elettrica ci dà la possibilità anche di mettere i piedi lì al centro quindi nessun problema o quasi comunque per chi sta seduto al centro il quinto passeggero è sempre magari un pochino sacrificato adesso parliamo dell'elefante nell'armadio ma quest'auto si dice no l'ha fatta nella stanza perché nell'armadio non ci stava comunque ma quest'auto ha quanto carica perché diciamo che la fast charge è un po' un problema con le batterie forse di BYD soprattutto le Blade dato che anche BYD non riesce proprio a sfruttarla a pieno non so se avete notato il video che ho fatto della 1000 km con BYD 8.3 qui abbiamo una batteria che è praticamente la stessa e abbiamo una velocità di carica che loro diciamo indicano con un 30-80% in 30 minuti il che mi fa pensare un po' ad un 88 kilowatt di picco di ricarica e non so questo quanto potrebbe giovare ai viaggi lunghi con quest'auto anche se mi sembra un'auto veramente molto molto comoda quasi dimenticavo di farvi vedere la versione nera che invece mi sembra più elegante ne stavo proprio parlando prima con Francesco e Marta e devo dire che la parte frontale che era forse quella un pochino che più urtava per questa bandina nera invece qui è decisamente più bella più elegante e anche più cattivella devo dire non vi ho parlato poi della JQ la JQ, questo nuovo modello, il J7 sarà un modello che poi arriverà verso fine anno solo però a benzina un'auto che devo dire essere esteticamente molto bella mi piace, assomiglia veramente tanto a dei Range Rover o comunque delle auto importanti da questo punto di vista il frontale è veramente cattivissimo ancora non abbiamo proprio un listino prezzi e neanche sappiamo esattamente la motorizzazione è stata presentata quest'oggi come un auto premium un marchio completamente diverso rispetto a Domoda però sotto sempre lo stesso cappello che è il cappello di Ceri vogliamo vederla un pochino più da vicino? perché vi sterrete domandando? perché comunque è un'auto che arriverà anche in versione ibrida ibrida plug-in si vocifera con una batteria da 19 kWh sono tutte informazioni che trovate online quindi non vi sto spoilerando niente in realtà e dovrebbe attestarsi anche con un chilometraggio di circa 100 km in elettrico è molto particolare la firma luminosa mi piace che bella, divisa proprio in quattro parti separate abbiamo il fendinebbia qui sotto diciamo le luci principali Matrix LED attive qui divise in due bulbi e poi qua sopra le luci diurne a LED con questo tema a bandiera a scacchi che è veramente carino ovviamente poi qui abbiamo anche la freccia maniglie poi a scomparsa e interni da auto premium decisamente premium guardate che bella questa portiera lo stile molto squadrato anche quasi metallico vedete come ci sono queste viti a vista ovviamente fatto appositamente un abitacolo molto molto grande spazio tanto tanto sopra la testa un sedile inedito che non avevo mai osservato con questa forma diciamo molto rettangolare guardate che bella abbiamo un volante che assomiglia molto a quello della Omoda anzi probabilmente è proprio quello della Omoda un display diviso in due è splittato questa volta non curvo continuo con un display qui davanti da 21 pollici e l'altro invece in verticale posto centralmente il sistema operativo è lo stesso ma lo schermo è posto verticalmente molto bello guardate poi qui questa parte che decisamente inedita vediamo questo cambio in stile cloche di aeroplano molto bello con questa poi ghiera veramente con un feeling premium mi piace devo dire poi anche tutta questa parte in led illuminazione interna madonna quanto spazio che c'è a bordo sarà un'auto interessante forse da provare grazie appunto ai 100 km di autonomia in più elettrici non vedo l'ora di fare tutti i vari test che sapete voi benissimo quali sono ossia salita, discesa, urbano, extraurbano 130 in autostrada, 1000 km vabbè se volete vedere tutto questo mi raccomando iscrivetevi al canale noi ci vediamo presto ah e il prezzo dovrebbe stare sui 35 massimo 40.000 euro io spero che nella versione da 35.000 ci siano abbastanza optional da farci dire uè ma è un affare grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti